Un tentato duplice omicidio consumato in un contesto sociale di apparente degrado, quello avvenuto ieri sera intorno alle 23 in questa abitazione incontrata a Sterparo a Città Quana. Un ragazzo di 25 anni ha bussato la porta di una coppia, lui un ferrovecchio di 56 anni, lei una ragazza di 29 anni. Il giovane appena entrato in casa ha cominciato a sparare all'impazzata con la sua calibro 22 regolarmente detenuta ed è poi fuggito. Le vittime gravemente ferite sono però riuscite a chiamare carabinieri sanitari e a fornire le generalità del giovane che poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri di penne non potendo negare le sue responsabilità ed è stato arrestato. Ancora tutta da chiarire la dinamica ma soprattutto lo movente. Il giovane pare avesse un legame di parentela con il 56enne ed abita ad un centinaio di metri dalla scena del crimine. Atriti personali o motivi passionali nelle prossime ore sarà nuovamente ascoltato dagli inquirenti mentre le due vittime restano ricoverate in prognasi riservata all'ospedale di Pescara.